Nella quinta domenica di quaresima dell'anno A è il salmo 129 a guidarci nella parola è il de profundis clamavia de te domine è il salmo della tristezza è il salmo del lutto è il salmo degli abissi Baudelaire nei fiori del male così colpito da questo salmo lo volle riscrivere a suo modo imploro la tua pietà o tu unico che io ami dal fondo del buio abisso dove il mio cuore è caduto è un universo cupo dall'orizzonte plumbeo dove vagano nella notte l'errore e la bestemmia un sole senza calore si libra su di esso non c'è orrore al mondo che superi la fredda crudeltà di quel sole di ghiaccio invidio la sorte dei più abietti animali che possono sprofondare in un sonno stupido tanto la matassa del tempo lentamente si dipana e il dolore dell'uomo l'uomo di fede non vive in un cielo azzurro non teme l'abisso lo attraversa perché ha lo sguardo rivolto verso il cielo e allora commento di questo salmo la poesia di tagore l'offerta lirica mia delizia è attendere e spiare sul bordo della strada dove l'ombra insegue la luce l'aria si riempie di profumo della promessa io so che il momento felice verrà ed io lo vedrò il signore è bontà e misericordia il signore è bontà e misericordia dal profumo del rito signore signore ascolta la mia voce signore l' pidemmi sì più arrivederим signore ascolta la mia memoria il signore ascolta la mia sabbia il signore é bontà e misericordia Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere, ma con te fece il gioco, così avremo il tuo timore. Il Signore è morta e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aulore. Il Signore è morta e misericordia. Israele attenta il Signore, perché con il Signore la misericordia è grande con Lui la redenzione. E li libera Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è morta e misericordia. Il Signore è morta e misericordia.